Oggi un importante lavoro, la conferenza è qui a Chieti dove con la partecipazione di molte amministrazioni comunali abbiamo rigettato il dimensionamento sulla provincia di Chieti e ad onore del vero bisogna dire che si chiede alla provincia di Chieti di fare quattro dimensionamenti, mentre l'Aquila ne ha fatti tre, Teramo ne fa due, Pescara ne fa uno. Noi abbiamo già dato in termini di dimensionamento, perché ricordo molto bene che abbiamo già dimensionato Carun, che abbiamo dimensionato precedentemente Torricella, Palena, successivamente abbiamo dimensionato Guardia Greve, l'anno scorso abbiamo dimensionato il Gagliano e l'Esterli, credo che sia arrivato il momento che siano le altre province a dare il proprio contributo all'ufficio scolastico regionale. Quindi è per questo, in particolar modo, che abbiamo rigettato queste poste di dimensionamento e chiediamo all'ufficio scolastico regionale di mantenere le sedi così come sono in provincia di Chieti.